Ciao ragazze, sono io Laura. Allora, oggi, scusatemi, oggi vi vorrei fare un video. Io non avevo fatto la presentazione prima di fare i video, quindi ve lo faccio una. Allora, come sapete chi mi segue? Mi chiamo Laura, ho otto anni, vado in terza elementare, sono una grande fan di Violetta, cioè a me mi piace tanto Violetta. Però non ho proprio, per esempio non sono andata al suo concerto, però non fa niente, la seguo nella serie, in tv, vabbè. Comunque, faccio il compleanno a marzo, il 5 di marzo, sono nata nel 2006, abito a Bologna, però non ho proprio Bologna centrale, ma fuori Bologna, a Castelletto. Come vedete, ha le cuffie di Violetta, perché le indosso sempre. Comunque, vabbè, niente, con la mia presentazione, e spero che vi sia piaciuto, un bacione, ciao, commentate, scrivetevi e mettete un mi piace. Ciao ragazzi, al prossimo video, ciao!